Una cartina di questa terra, di un esponente di questa terra e poi la presenza di un attore come Zingaretti della famiglia Lucisano va a forza di tutto il progetto. Sì, noi abbiamo immediatamente sposato questo progetto perché tra l'altro è un film scritto da un nostro conterraneo, da Mimmo Gangemi, quindi la dimostrazione che ci sono anche tanti autori, tanti bravi scrittori calabresi che sono in grado ovviamente di mettere in campo poi un'azione che produce un film come questo, che andrà sulla RAI, quindi sulle reti nazionali. E allora la Regione ha subito, prontamente anche attraverso il coinvolgimento della Film Commission, condiviso e sposato quest'idea.